Vorresti fare una biga come questa per realizzare questo e questo. Troverai le dosi in descrizione e se non mi segui cosa stai aspettando. Seguimi per il procedimento, andiamo avanti. In una ciottola capiente mettiamo un chilo di farina, due grammi di lievito, mezzo litro di acqua e impastiamo energicamente fino ad avere un bel panetto liscio e ben compatto. Come questo lo mettiamo anche nel banco, lo lavoriamo bene e poi lo riponiamo nel contenitore, mettiamo sopra la pellicola e lo riponiamo in frigorifero per 24 ore.